Pioppi frazione di Pollica, mi trovo presso il Caribou Club in occasione dell'evento Cilento di Gusto Art of Mixology, organizzato dall'associazione Cilento Sport e Cultura. Grazie per la visione! Quest'anno il filo conduttore è questa mixologia, che non è solamente fare cocktail, ma è l'alchimia di alimenti e di prodotti messi insieme. Partiamo da un territorio alla cultura, all'enogastronomia, al vino, al cibo, alle persone che ci vengono a trovare. Tutto, se raggiungono l'equilibrio, abbiamo fatto una mixologia, un insieme di elementi. Questo qui è Cilento di Gusto Art of Mixology. Le aziende sono aziende vitivinicole, olearie, di prodotti tipici, di servizi, culturali, perché ci sono degli artigiani, quei vecchi artigiani che abbiamo anche dall'altra parte, che fanno il paniere. Abbiamo fatto un tavolo di lavoro, un tavolo di lavoro con chi? Con loro, che erano gli attori principali, ma con un gruppo di giornalisti. Otto giornalisti enogastronomici, giornalisti turistici di testate nazionali, che sono venuti, invitati da Cilento di Gusto Art of Mixology, a fare un educational tour per il Cilento. Yeah, you light me up inside, like the blood of July, whenever you're around, I always seem to smile, and people ask me how, well you're the reason why, I'm dancing in the mirror, and singing in the shower. Singing in the shower. Singing in the shower.